Denunciato alla Procura della Repubblica di Frosinone, un 34enne di Veroli incensurato per riscettazione. Dopo accurate indagini, i carabinieri nel corso di una perquisizione a casa dell'uomo trovavano numerosi oggetti riconducibili a svariati furti avvenuti a Veroli dal 2015 ad oggi, in particolare oggetti sacri rubati dalla chiesa San Michele di Veroli, come candelabri, calici in argento ed oro con sottopiatto, croce e brocca in rame, quadri e raffiguranti immagini sacre durante un furto avvenuto lo scorso dicembre, oppure altri oggetti rubati al liceo scientifico Giovanni Sulpiccio di Veroli, come un microscopio biologico, microscopio oculare elettronico, un videoproiettore ed una stampata laser o materiale riconducibile a furti avvenuti in abitazioni tra il 2015 ed oggi.